Niente paura fratelli miei, sappiamo che siamo a rischio di contagio. Ebbene, ci forniamo perché sono disponibili questi buonissimi alla salute e anche al palato. Il nostro narancio deve essere dentro casa nostra, ogni giorno lo dobbiamo prendere. Bene cari amici, così saremo in sicurezza per la nostra salute. Grazie. Amen.